direi di passare al succo della nostra live simulare il tour de france 2024 come squadra andremo a scegliere la boransgrohe perché ho visto che nei sondaggi era la squadra più gettonata probabile alessio comunque andiamo modalità gara tour de france difficoltà mettiamo leggenda ma giocheremo soltanto le prime tre di tappe cioè le tappe italiane le altre poi andremo a simularle velocemente altrimenti non bastano live database database 1 perché come vi ho detto sono andato a modificare le selezioni delle varie squadre ho messo praticamente le selezioni delle squadre reali sono nessuno numero di giocatori numero di giocatori metto solo cadute mettiamo con ritiri le preparazioni le facciamo attivate poi infortuni in gara rari ciclisti tutti cadute abbiamo detto con ritiri malattie brevi ok andiamo avanti squadra andiamo a scegliere la boransgrohe con roglic capitano e jai hindley perfetto scegliamo la boransgrohe non modifichiamo le squadre perché l'ho già preparate dovrebbero essere quelle per sicurezza do una controllata un po agli altri team qui c'è christian rodriguez barain baospeo bilbao ma dovrebbe essere tutto ok si non c'è kuss ma c'è jorgenson membro squadra lusso o è pocaccia ralmeida si no dovrebbe essere tutto ok boransgrohe non modificare e andiamo andiamo a giocarci questo tour de france 2024 tra l'altro vorrei aspettare l'aggiornamento un ulteriore aggiornamento del gioco in cui vi è proprio la squadra con la divisa nuova red bull boransgrohe ok prima tappa firenze rimidi che già una tappa bella tosta 210 km c'è una discesa tecnica è tappa bella impegnativa ci giochiamo le prime tre tappe cioè le tappe italiane anche se la quarta parte da pinerolo quindi anche questa parte in italia è un tour che parte subito forte ragazzi cioè guardate che tappe già le prime due tosti tosta e poi la quarta durissima magari ci giochiamo la prima la seconda la terza non la giochiamo perché per velocisti alla bora non ha un velocista e passiamo direttamente alla quarta ci giochiamo ste tre tappe e poi le altre le simuliamo partiamo con la firenze rimini sì sì fare fare un tour con la red bull boransgrohe secondo me è una figata da fare poi non so se sul canale youtube o qua in live ok non abbiamo nessuno dei nostri ranking condizioni questa è la bora roglish hindley vlasov sobrero jungles poi nico dance van poppel e aller che sono quei corridori che avranno il compito magari di tirare in pianura van poppel potrebbe anche fare le volate volendo ma la bora secondo me è tutta focalizzata su primos roglish e perciò danny van poppel magari potrebbe buttarsi da solo in qualche volata ma dovrà lavorare insieme ad aller e nico dance per questa super squadra perché comunque è una squadra molto forte io selezionerei già da subito primos roglish e mandare in fuga ragazzi mandare in fuga sobrero così per la maglia qua che ne dite buttiamo in fuga sobrero maglia qua potrebbe essere un obiettivo giusto per dare comunque un compito a un corridore italiano quindi prendiamo matteo sobrero sobrero che si sa dovrà lavorare anche tanto per roglish sta disputando una buona stagione matteo ma al servizio ovviamente del dei suoi capitani che sono roglish poi hindley poi vlasov lui è quarto nella gerarchia della squadra è diventato sicuramente superiore allo jungles attuale ma sta partendo la fuga e noi qua siamo chiusi questa è una delle cose che mi mandano in bestia parte la fuga tu sei chiuso per fortuna parte gossens quindi gli andiamo sulla ruota e ci è andata bene perché siamo sulla ruota di kobe gossens andiamo in fuga con lui si ferma partiamo con sobrero vediamo cosa succede dietro si anche per la combattività vero no dance sta sulle ruote sobrero gli metto già il ruolo di leader della classifica della maglia qua roglish il capitano per la maglia gialla già impostato in automatico da solo ovviamente e andiamo andiamo con champus ok o cerchiamo di guadagnare posizioni perché siamo troppo dietro detta vlasov di attaccare ma fatto fatica a risalire le posizioni del gruppo adesso parte vlasov ok parte vlasov e va a chiudere ai uso vedete la ue lavora subito io mi metto qua in posizione di da stopper e copriamo l'allungo di alexander vlasov e però vedete arrivano anche gli altri van aert vingegaard e compagnia ora vlasov deve tirare al 110 e gli dico di prendere il gel rosso vediamo quello che succede siamo rimasti soltanto in 23 davanti quindi c'è stata una selezione brutale per essere soltanto la prima tappa con vlasov che deve insistere deve insistere al cento per cento perché mancano due chilometri allo scolinamento poi la discesa e tecnica quindi vlasov deve insistere va stanno andando a riprendere mattei moric e però alessandro l'austria teoricamente dovrebbe essere una pista favorevole alla ferrari e se andiamo male qui sono dolori aspettiamo la gara perché magari gli stacchi sono risicati però io la vedo molto scura ok intanto qua c'è bernal addirittura che tira con vlasov che ha ripreso morici in testa alla corsa deve collaborare con lo sloveno della bahrain e noi stiamo qui passivi sulle ruote con egan bernal che sta tirando forse sta lavorando per tom pidgok si stacca van der puel si stacca van der puel non ce la fa più mattia van der puel e deve lavorare joao almeida deve lavorare joao meravigliavo accelera addirittura van der puel e anche pogaciar in prima persona anche pogaciar intanto qua prendo il gel blu con roglic io provo a frenare qui per cercare di rallentarli faccio un po' lo stopper in curva faccio un po' quello scorretto in curva ma ma qua è tecnica la discesa ma molto tecnica e c'è pogaciar che è attaccato e lo devo andare a chiudere devo andare a chiudere tadei ma roglic in discesa non dovrebbe essere un granché vabbè io mi metto lo faccio chiudere a van aert faccio fare il lavoro sporco agli altri discesa molto molto tecnica molto molto tecnica e domani sarà una tappa importante soprattutto sta discesa è pericolosa perché qua magari quelli che fanno la classifica cercheranno di non rischiare troppo per evitare di di farsi male e compromettere tutto già la prima frazione io adesso non sto guardando la chat perché però intravedo un andrew quindi ciao intravedo un andrew se non ho visto male quindi ti saluto ma sono concentratissimo qua che sta discesa è molto difficile con pogaciar che sta andando a chiudere sui corritori lì davanti ok si forma un terzetto lì di testa e dico a vlasov di non collaborare perché c'è pogaciar che è un nostro avversario quindi vlasov non collabora adesso stiamo con bardè che è un ottimo discesista ok leggo il comando passo per un saluto e me ne vado qui le cose vanno lunghe spero di esserci sì fine live così vediamo vediamo come finisce perché poi non le simulerò non faccio tutte le tappe ve l'ho detto faccio la prima la seconda e la quarta intanto leggo un altro commento abaccani ciao domani poga se ne ha capace attacca sì sicuramente se alla gamba attacca sicuro attacca grazie anche a te per l'abbonamento perché vedo che hai non so se ho visto hai la corona non so se la corona è l'abbonamento ragazzi sono nuovo quindi nei commenti datemi qualche indicazione perché vedo alcuni che hanno le corone quindi presumo che sia o la sab o il tasto segui non lo so non lo so di preciso Van Aert va a chiudere comunque sui tre lì davanti oddio vado larghissimo qui c'è Pogacar che attacca Pogacar eccolo qua l'hai chiamato la corona è il prime ok grande comunque l'hai chiamato l'attacco di Pogacar ed è arrivato come un pazzo con Morish ma sicuramente è positivo per noi perché presta il fianco un nostro contropiede mancano 15 km quindi da qui ad arrivare a trovare è bella lunga e noi con Roglic abbiamo anche il gel blu e c'è Van Aert che sta facendo il lavoro sporco per noi Pogacar ha una gamba clamorosa clamorosa noi qui facciamo lavorare Van Aert nel caso Van Aert non ne avesse più mettiamo mettiamo a lavorare mettiamo a lavorare Blasov e Hindley ok però non perdiamo la ruota di Van Aert come stiamo facendo adesso altrimenti sono dolori cerchiamo di non perdere la ruota di uno scatenato Wutt Van Aert che sta lavorando per Jonas Wingard in modo da chiudere su un Tadej Pogacar all'attacco già nella prima frazione Mass è rimasto staccato Rick Mass ecco già rischia di pagare Rick Mass mentre noi con i nostri tre capitani siamo qui davanti il capitano ovviamente è Roglic ma ciao hello hello from America Matteo Jorgensen Matteo Jorgensen is out of the race ok Van Aert ha chiuso su su Pogacar dico ad Indley di attaccare perché ne ha quindi facciamo partire in contropiede già i Kindley vediamo eh però ci anticipa Mannaggia ci anticipa Yates ci anticipa Yates con Indley e va anche Bardet dico a Indley di aspettarci perché non se no sprega troppa energia aspetta Roglic c'è già Bardet che sta chiudendo su Samo Yates ti hanno anticipato quindi aspetta andiamo buonasera Mark buonasera buonasera parte in contropiede ai uso e qua la situazione si fa difficile c'è Wingard che va in prima persona noi cerchiamo di marcare Wingard e Pogacar che sono i nostri sono i nostri rivali addirittura Wingard accelera siamo messi bene sulla sua ruota molto bene molto bene e c'è anche Renquevenepul dietro che sta chiudendo ok rallentamento vediamo se Indley adesso ne ha per fare l'allungo in contropiede no però aspetta Indley è rimasto attardato dietro mannaggia lui vediamo se parte non capisco perché Vlasov si è fatto staccare da quelli lì Vlasov deve chiudere e tornare qui ok faccio il gel rosso ad Indley e gli dico un attimo come la voglio giocare bene ragazzi è che è il momento chiave della gara Vlasov deve venire a chiudere qua perché non deve ok Vlasov è rientrato perfetto Vlasov è rientrato e deve perseverare senza limiti adesso deve attaccare Indley e vediamo se attacca Pidcock si è staccato è buono anche se parte Simon Yates quindi dico di muova di Indley di perseverare senza limiti qua è difficile da gestire è molto difficile sono sulla ruota di Adam Yates vediamo vediamo perché dietro Eveneple ha quasi rinunciato ci sono delle curve Adam ci sta portando ci sta portando facile io qua parto parto con Roglic perché c'è la curva abbiamo il gel rosso dalla nostra parto prendiamo tutto il gel rosso però dietro sta arrivando Pogaccio sta arrivando Tadei sta arrivando Tadei io sto prendendo tutto il gel rosso parte la volata forse siamo partiti lunghi forse siamo partiti troppo lunghi con Roglic però l'abbiamo gestita bene l'abbiamo gestita bene Primoz Roglic vince la prima tappa della prima maglia gialla poi Evenepul altri due corridori della UE che sono Pogaccio e forse ai uso Vlasov Vedindley comunque lì dai prima maglia gialla presa dai prima maglia gialla presa ottimo sì sì grande grazie Alessio l'abbiamo gestita bene dai difficoltà leggenda l'avete visto inizio live difficoltà leggenda questi replay evenepul poi Pogaccio un altro UE che forse Adam Yates dovrebbe essere Vingegaard il quinto quindi Evenepul Pogaccio Roglic e Vingegaard davanti i più forti sono lì i più forti della generale sono lì eccolo Roglic eh sì speriamo ma domani secondo me ci sarà di divertirsi ci divertiremo ok Roglic prima maglia gialla ora ragazzi ditemi mettere almeno le facce creare delle facce simili non dico di tutti i corridori che è impossibile ma almeno dei corridori più importanti sembra una stupidata però cioè renderebbe il gioco più bello cosa gli costa cercare di fare delle facce siamo nel 2024 ragazzi 2024 ah la classifica scalatori però Pascher nella partita ci divertiremo un sacco speriamo ragazzi la Svizzera è forte non sottovalutatela anche 3 secondi di buco quindi guadagniamo anche 3 secondi di buco seconda è Venepul terzo Adam Yates che va a fregare ogni 4 secondi di a buona Pogacar quindi Pogacar nel pullman a fine tappa ha preso sicuramente schiaffoni Adam Yates quinto Vingard poi un distacco di una ventina di secondi con i nostri Hindley e Vlasov che sono stati bravi lì vediamo se ci sono stati uomini di classifiche importanti che hanno pagato distacco già al mei da 1 minuto è 06 lui trago 1 e 18 Mass si è beccato 2 minuti e passa quindi inizia benissimo il tour di Eric Mass e della Movistar perfetto iniziano alla grande e così come inizia male Michelanda che si becca la bellezza di 3 minuti e 34 ma occhio che domani un attimo è a beccarsi 2-3 minuti secondo me Pogacar sì bravo Alessio sono le stesse identiche facce ora sono passati 10 anni come fai giustamente notare almeno per i corridori più importanti una decina Pogacar Van Der Poel Roglic Wingard Van Aert Evenepoel per questi qui almeno per questi qui dovrebbero farle Jorgensen 4 minuti Gillion Martin 4 minuti Ciccone 4 minuti insomma è venuto fuori un bel un bel disastro ok Roglic maglia gialla con 7 secondi di vantaggio su Evenepoel terzo Adam Yates quarto Pogacar il nostro Indley è decimo va bene ora c'è la seconda tappa Bologna sì 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 però l'arrivo non è l'arrivo non è inserito beh qua lo dice il gruppo la prima parte della traversata dell'Emilia Romagna è priva di difficoltà significative condurrà il gruppo a Imola la seconda parte con l'ascesa verso il santuario della Madonna di San Luca 1,9 km 2 km al 10 al 10,6% dipendenza media perché ha dei punti oltre il 20 tradizionale arrivo del Giro dell'Emilia è un invito a nozze per gli scattisti perché verrà percorsa due volte vedete l'ultimo gpm di terza categoria che è il San Luca che si fa la seconda volta lì lo vedete in giallo perché ci sono dei secondi di abbuono assegnati a chi passa per primo quindi potrebbe essere interessante dai passare lì con Roglic per prendere dei secondi di abbuono favoriti Pogacar Roglic e anche Tom Pidcock della Ineos Roglic ha la condizione così come Inley mentre Vlasov no sta male Vlasov come vedete senza bandiera dal 2022 c'ha sta bandiera bianca andiamo con Roglic non mandiamo in fuga nessuno al massimo controlliamo la corsa se avvio una fuga numerosa Hindley tienici qui davanti cerchiamo di stare qua davanti col supporto di Jai Hindley è dura difficile ci avviciniamo a San Luca bellissimo come l'hanno fatto però qui qua devo dire bravi qua devo dire bravi la curva l'hanno fatta bene ok però siamo chiusi dico a Hindley di tentare un allungo vediamo se lo fa sulla sinistra dai Jai che ti sono a ruota attacco di squadra di Borans Grohe Hindley Roglic con Evenepul pronto a venire sulle ruote di Primoz Roglic qua l'hanno fatta bella a Bologna ragazzi cioè considerando il motore grafico penoso di questo gioco è molto bello il San Luca l'hanno fatto molto bello il San Luca ragazzi bravi qua il San Luca è fatto bene c'è nulla da dire assolutamente nulla da dire ok considerando che un gioco che è un motore grafico vecchissimo di oltre dieci anni l'hanno fatto molto bene ok Hindley necessita del gel rosso ma deve continuare a menare a tutta dai Jai Blasov non ce la fa più e salta ma si sapeva con quella condizione terribile che ha beccato tra virgolette l'abbiamo fatto fuori noi perché con questo allungo di Hindley l'abbiamo messo in crisi ma stiamo mettendo in crisi parecchi corridori ok adesso dico a Hindley addirittura di attaccare e gli faccio il buco ragazzi guardate che gli faccio c'è il buco provo a chiudere un po' gli altri però è bene pull va per rispondere no Hindley non fermarti vai a tutta ti ho fatto il buco perché ti fermi ragazzi che ne pensate del San Luca l'hanno fatto l'hanno fatto male l'ha fatto non l'ha fatto male dai F1 che ha lo stesso motore di gioco da 15 anni è vero si se prendi Formula 1 2013 è addirittura meglio comunque qui ci siamo mossi abbastanza bene provo ad andare su Hindley vediamo perché Pogacera era rimasto per un attimo dietro però è tornato sotto sta facendo una gran tappa Hindley sta facendo una gran tappa anche Van Der Poel è lì ciao Fabio ciao grande grande Fabio ciao ciao Fabio e grazie stiamo stiamo praticamente giocando le prime tappe quelle italiane del tour e poi andremo a simulare le altre perché ovviamente in una live è impossibile farle tutte e vediamo chi vince il tour de France su questo gioco abbiamo vinto la prima tappa con Roglic e siamo in maglia gialla adesso c'è Hindley qui davanti ha tirato abbastanza per severa senza limiti vediamo se attacca qualcuno c'è marcamento però abbiamo fatto fuori Adam Yates potrebbero rientrare ha sbagliato qua farlo fermare in discesa qua ho sbagliato ho sbagliato ragazzi cerchiamo di non farli rientrare sono rientrati come non detto cerchiamo di non farli rientrare ma sono rientrati io il Sanluca sono rimasto piacevolmente sorpreso cioè è fatto fatto bene per per il motore di gioco c'è un bel colpo d'occhio non male per niente non male ok faccio recuperare un po' la barra rossa di Hindley e poi lo faccio allungare perché Hindley qui intanto Vlasov sta sprofondando a 4 minuti ha beccato proprio la condizione no in questa tappa ok Hindley attacca vai Jai Roglic parla alla radio ecco l'allungo di Jai Hindley gli va dietro Valentin Madua ok parteremo con Pogaciar va bene subito pronti lì sulle ruote ragazzi stavo tirando Alessio per far recuperare Hindley in modo da farlo allungare poi però Madua qua ci sta a fregare Valentin Madua 2 km 6 allora abbiamo Vanderpool la ruota e non possiamo aspettare c'è quella curva lì a sinistra io provo ad anticipare perché qui le curve sono buggate non possiamo aspettare la volata con VDP ok c'è la curva importante prenderla davanti prendiamo tutto il gel rosso prendiamo il gel rosso il finale va anche a salire abbiamo fatto un piccolo buco dietro stanno arrivando stanno arrivando stanno arrivando stanno arrivando stanno arrivando partiamo partiamo con Roglic e Van Aert arriva con un altro passo arriva con un altro passo Put Van Aert arriva andiamo a prenderci almeno il terzo posto che dovrebbero essere 4 secondi di abbuono potevamo forse gestirla leggermente meglio dovevo prendere il gel rosso prima forse mannaggia mannaggia però c'erano Van Aert e VDP non dovevo farli rientrare in discesa l'errore è stato far smettere di tirare Indley qui l'ho sbagliata ragazzi qui l'ho sbagliata perché eravamo in 9 davanti Wonderpool se non ricordo male e Van Aert erano dietro io lì a un certo punto ho detto a Indley smetti di tirare e sono rientrati nella discesa quindi qua l'ho sbagliata però terzi soffiamo 4 secondi di abbuono a Pogacar e forse c'è anche un buchettino su Eveneple quindi dai basta che vinciamo domani pure i rigori che Froiler con quella dichiarazione mi ha dato fastidio noi ci siamo qualificati a mondiale dovrebbero dirvi a Froiler informarlo che l'Italian è a 24 di mondiale la Svizzera in Svizzera festeggiano le qualificazioni le contano come trofei ok vince Van Der Poel davanti a Van Aert terzo Roglic che ha preso 9 secondi di abbuono perché siamo passati anche al siamo passati per primi anche al GPM e quindi abbiamo preso 9 secondi di abbuono non male Indle il dodicesimo che ha preso 8 secondi di abbuono anche lui sprofonda Alexander Vlasov che ha beccato la condizione no mannaggia a lui peccato peccato per Vlasov siamo maglia gialla con Roglic con 14 secondi di vantaggio su Eveneple terzo Pogacar quarto Vingard quinto vado a Fabio hai visto l'aggiornamento Fabio hai visto l'aggiornamento degli overhaul di alcuni corridori hanno fatto Pogacar fortissimo più di Vingard in montagna gli hanno messo 83 come Vingard Tiberi gli hanno dato 79 hanno abbassato Godou tanto hanno fatto bene hanno abbassato Godou si sono dimenticati di alzare Daniel Martinez si sono dimenticati di Martinez hanno alzato Ghipur bravi hanno alzato Pellizzari a 75 che gli avevano messo solo 72 quindi dai Piacenza Torino ragazzi la simuliamo perché è una tappa per velocisti e la Bora non ha velocisti in questo Tour de France a Van Poppel ma Van Poppel si probabilmente hanno visto si 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 è vero ok Van Poppel fa 14esimo l'abbiamo criticato gli altri tutti con lo stesso tempo non dovrebbe essere successo nulla si classifica generale resta invariata tappa 4 la giochiamo perché parte comunque dall'Italia da Pinerolo ciao Fricoz buongiorno buongiorno anche se dovrebbe essere più buonasera però va bene anche buongiorno non scopriremo mai se hanno fatto la mola antonelliana comunque il Sanluca è fatto bene per me pure la curva il Sanluca l'hanno fatto bene tappa tosta che parte da Pinerolo e arriva a Valoir lascerà l'Italia dopo una lunga salita verso il Sestriere quindi tappe storiche il confine verrà barcato ufficialmente in cima al colle del Mon Ginevro poi dopo la salita del Lauterè ah si fa pure il Lauterè insomma tutte salite toste ci saranno da affrontare i 2642 metri del Galibie quindi ragazzi alla quarta tappa si va già in quota e che quota 2600 metri e già qui qualcuno potrebbe saltare non è un inizio favorevole a un Vingegaard ragazzi è un corridore che arriva non tanto preparato cioè per Vingegaard sarebbe stato meglio un inizio soft con una crono tappe per velocisti invece subito tappe toste e poi già la quarta il Galibie non è il massimo cerchiamo di mandare in fuga a Vlaso sì 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 c'è già il Galibie per Vingegaard dura come inizio anche per questo si è allenato subito in quota che hanno detto cavoli Vingegaard si è appena ripreso appena è salito in bici e va già in quota e va già in quota per accelerare i tempi cavoli abbiamo un Roglic che non ha la condizione non è pessima come Vlasov nella scorsa tappa ma comunque non sta bene Vlasov è 24esimo in classifica lo buttiamo in fuga per cercare di recuperare sempre se lo fanno andare in fuga Vlasov ragazzi perché ha 5 minuti comunque le tappe del gioco vecchio rimangono buttate nel cestino alcune rimangono alcune tappe del gioco vecchio rimangono non le cestinano tutte perché poi le riutilizzano per i vari pro team i vari pro leader nel corso degli degli anni una cosa che hanno cacciato che era figa c'era su Tour de France 2014 ragazzi non so se ve lo ricordate su quel gioco c'era la possibilità di scegliere la corona la moltiplica se pedalare col 53 o col 39 se tu in salita pedalavi col 53 adesso vi dico questa chicca per chi è giovane andavi più forte perché pedalavi col 53 però la barra blu dell'energia si consumava più velocemente quindi magari in salita tranne per un attacco conveniva andare col 39 la volata ovviamente se volevi passare i 70 all'ora dovevi ricordarti di mettere la corona grande il 53 questa era una figata e non capisco perché hanno tolto questa meccanica non capisco perché l'hanno tolta era una meccanica che ci sta nel gioco ma adesso puoi solo impostare la barra dello sforzo cioè quanta forze in primi però era figo era figo il discorso della della corona grande attenzione che va via un fugone enorme e sta fuga a me piace perché potrebbe essere la fuga a bidone che permetterebbe a Vlasov di di prendere la maglia infatti tira subito Pollit della UE Pogacar sta attento comunque Aller ha i baffi anni 70 si Aller sembra uno di quegli di quegli hippie degli anni 70 è vero passistone comunque forte Aller un corridore che serve ad una squadra Ora mega fuga di 26 corridori perfetta per Alexander Vlasov possiamo anche stare qui senza tirare Vediamo dietro tira la UE con Nils Pollitt Occhio che qui c'è la fuga a bidone ragazzi Occhio dietro attaccato Pogacar guardate attaccato Pogacar prendo il controllo di Roglic e qua diventa difficile attaccato da dei dico a Vlasov di andare al 90% attaccato da dei Pogacar dico a Sobrero di mollare ad Indle di venire in protezione di Roglic vediamo si Pogacar allungato c'è la Visma che lavora e c'è Wingard qui che controlla quindi stiamo tranquilli situazione difficile Vlasov a 5 minuti quindi non prenderà la maglia gialla ma può rientrare in classifica ed è un'ottima cosa davanti Pogacar qui tira Van Aert per Jonas Wingard poi c'è anche Matteo Jorgensen e però Tadej ha guadagnato già una quarantina di secondi dico a Fulsang di tentare un allungo un attacco vediamo se si scrolla l'Eknesun questo Jega della totale energie che non conosco ragazzi mai sentito prima mai sentito prima ok vediamo se l'allungo di Vlasov è un pochino più incisivo per far fuori quei due però sembra di no mannaggia dico di andare al 100 al 110 vediamo se riesce a staccarli ma sembrerebbe di no si forse si forse li ha staccati vediamo se andando al 90 va faccio prendere il gel rosso perché li ha staccati deve scolinare però senza piantarsi possibilmente ed è inseguito dall'Eknesund che è un corridore forte passa Vlasov ok che adesso in discesa deve andare a tutta 100% da qui alla fine c'è Remco che accelera e gli vado dietro in prima persona con Primoz Roglic dico anche Indley di attaccare perché se ne ha deve muoversi però Pogaciar non è lontano ragazzi non è lontano da Dei Vlasov deve andare al 100% in discesa da qui alla fine chilometro ok va Vingegaard poco più avanti Pogaciar ragazzi poco più avanti bella tappa Roglic vi ripeto non sta granché Indley va all'80% perché è al limite sta peggio di Roglic ripreso intanto Bilbao che va attaccato evidentemente in compagnia di un Movistar che era Mass e lì guardate Pogaciar che sta scollinando diventerà decisiva la discesa ragazzi dico a Vlasov di andare al 110 il problema è che Vlasov non è un grande discesista siamo al limite intanto qui con Primoz Roglic però siamo riusciti a scollinare in compagnia di Vingegaard che non è una roba banale vediamo perché Roglic in discesa l'hanno fatto scarso vi faccio vedere vi faccio vedere ragazzi Roglic agilità agilità non è intesa come l'agilità ovvero il pedalare con una frequenza di pedalata elevata l'agilità è la traduzione dall'inglese agility che è inteso per l'abilità in discesa e Roglic ce l'hanno messo C come Venepul perché nella realtà casca sempre anche se Roglic in realtà è bravo in discesa casca per altri motivi Pogaciar invece in discesa A e Vingegaard B e me ne rendo conto nelle curve adesso che ho fatto sta curva a sinistra che il corridore è molto macchinoso da manovrare quindi sarà dura recuperare su Pogaciar si sente pad alla mano la differenza nelle curve quando entri si sente tanto però proviamoci perché comunque il gioco la CPU in discesa non è fenomenale quindi forse anche con un Roglic si riesce però guardate com'è macchinoso nell'impostazione delle curve tanto macchinoso ad esempio questa con Van Der Poel l'avrei fatta senza praticamente senza smettere senza toccare i freni però dobbiamo chiudere perché Pogaciar è poco più avanti purtroppo Vlasov ma sbagliamo male male molto male ragazzi purtroppo Vlasov è stato ripreso dall'Eknesund anche Vlasov non è un grande discesista dai Tadei non è molto lontano possiamo prenderlo mamma quanto stiamo rischiando Vlasov mi va al 100% da qui alla fine la tappa probabilmente non la vincerà lo befferà l'Eknesund fa niente posizione aerodinamica proviamo a chiudere su Tadei non è lontano ragazzi se ci sono commenti in chat adesso non posso assolutamente guardare dai Primoz dai Primoz ce l'hai lì Tadei ce l'hai lì ce l'hai lì ce l'hai lì ce l'abbiamo lì ragazzi ce l'abbiamo lì ma non riusciamo a prenderlo guardate come le fan meglio di noi le curve ci siamo ci siamo l'abbiamo ripreso vediamo se adesso desiste dal tirare ci sposta anche largo una spallata di Pogaccia da Roglic vediamo se adesso desiste no no insiste insiste noi lo freniamo un pochino perché abbiamo Vlasov davanti va bene è rientrato anche Vingegaard Vlasov deve andare a tutta ora curva a destra non ci giochiamo a buoni perché c'è Gossens c'è Gossens lì davanti non è il giocatore dell'ex dell'Atalanta ma un altro Kobe Gossens e Benebole ecco qua i 4 dell'Ave Maria qui davanti Hindley deve attaccare perché non è lontano vediamo se riesce a rientrare anche già Hindley su sti 4 sta rientrando il buon Peio Bilbao che è un fenomeno in discesa l'avete visto come è rientrato Peio Bilbao nella discesa 300 metri Vlasov attacca ma la tappa secondo me la vince l'Eknesund si la vince l'Eknesund mannaggia parte già Hindley ma viene ripreso da Jonas Vingegaard ok va bene comunque Vlasov rientra in classifica generale ragazzi l'abbiamo riportato in classifica con una bella fuga adesso stiamo qui passivi però ci sono ste curve che sono interessanti da prendere davanti con Roglic vediamo se facciamo un piccolo buchino vediamo se facciamo un piccolo buchino con ste curve potrebbe essere una bella mossa per Primoz Roglic forse abbiamo fatto un piccolo buco forse si secondo me si ragazzi potevamo vincerla con Vlasov ma dovevo concentrarmi per forza di cose su Roglic perché dovevamo chiudere sull'attacco di Tadei Pogacar ciao Andrew ti sei perso una bella tappa te la riassumo ti faccio vedere il replay Vlasov era uscito di Roglic intanto in maglia gialla dopo le prime quattro tappe abbiamo vinto la prima con Roglic e poi abbiamo fatto terzo nella seconda il Sanluca che l'ha vinta Vanderpoel davanti a Van Aert che sono rientrati nella discesa dopo l'ultimo strappo del Sanluca nella quarta tappa ho buttato in fuga Vlasov che era andato fuori classifica nella tappa di Sanluca perché aveva una brutta condizione Vlasov ha guadagnato tantissimo è arrivato secondo con la fuga battuto dall'Eknesund ma nel finale non l'ho potuto controllare perché con Roglic come vedi sono stato costretto a chiudere su Pogacar in discesa che aveva attaccato sul Galibier sono rientrato poi nel finale mi sono messo passivo perché davanti c'era la fuga e poi sono partito approfittando delle curve nel finale a buoni non ce ne sono perché davanti c'erano tre fuggitivi ma dovrei aver guadagnato qualche secondino perché ho fatto un piccolo buco adesso andiamo a dare un'occhiata alla classifica generale perché siamo ancora in maglia gialla con Roglic ma Vlasov è rientrato in classifica adesso le altre tappe le simuliamo perché sono le 22 17 e quindi si fa sta facendo una certa non possiamo certo giocare integralmente tutte le tappe ecco la classifica le Knessund Vlasov però nel finale non ho potuto controllarlo perché ero concentrato con Roglic nella discesa del Galibier ah prime due tappe team Geico ok quindi capitano Seimo Yates sul tuo canale grande Andrew team Geico Seimo Yates chissà veniamo come evolve la classifica generale Roglic maglia gialla con 17 secondi su Evenepoel 25 su Pogacar 25 su Vingegaard bravo Indley a 58 secondi bravo e Vlasov entra in top 10 guadagna 14 posizioni era a 6 minuti dalla maglia gialla prima di questa tappa 6 e 19 adesso è a 2 46 siamo riusciti a riportare dentro Alexander Vlasov ora abbiamo giocato le tappe italiane e andiamo a simularle vediamo simulare altre squadre quelle della Visma eccetera ecco questa è una tappa particolare non so se giocarla perché con i suoi 14 settori di strade sterrate per un totale di 32 km le sue numerose salite l'anello tracciato attorno a Troyes si dica così e non Troyes presenta tutti gli ingredienti per una tappa difficile io questa la voglio vedere la giochiamo per vederla ragazzi per voi siamo in questi tratti di Pavè io ricordo una live del Terri 89 in cui presentava una live un video di Fabio del Terri 89 in cui presentava le novità di Tour de France e poi mostrava queste immagini del trailer che mi avevano tratti in inganno ci avevano tratti in inganno perché guardando questi paesaggi vedete questi vigneti queste discese ci eravamo detti mi ricordo che eravamo entrati in contatto ma chissà che magari non hanno messo le strade bianche abbiamo pensato quando abbiamo visto queste immagini ora non vorrei dire una cavolata se Fabio in chat mi smentisce me la sono immaginata ma io me la ricordo questa chiacchierata abbiamo pensato non è che hanno messo le strade bianche e la mettono con un nome farlocco visto che è una corsa di RCS come ad esempio la prima vera classica la Milano Sanremo l'hanno chiamata prima vera classica il Lombardia giro di Como abbiamo pensato lo mettono e la chiamano strade toscane giro di Toscana ah beh ricordi ok quindi meno male vuol dire che la memoria è buona non l'ho immaginato perché ragazzi questo percorso qui erano queste le immagini che c'erano nel trailer di questo video in cui Fabio mostrava le novità di Tour de France 2024 e in effetti ricorda tantissimo il percorso della strade bianche figo io qua ragazzi sono tentato di partire di partire di secco in faccia ad Evenepul vediamo se fa una reazione vediamo sono curioso sono molto curioso perché Roglic sembra star bene riprendiamo intanto qui Eikov e dietro Evenepul sembra essere rimasto un po' sulle gambe qua rientro su questo gruppetto dove c'è anche il nostro Indley vediamo scusatemi se mi distrago un po' dalla chat ma Indley però purtroppo non è a mannaggia peccato quindi forse era meglio che lasciavo stare si sacrifica anche Indley gli do il gel rosso gli dico di perseverare senza limiti e di stare a ruota si alla fine non avrebbe guadagnato granché perché non ne aveva quindi gli hanno fatto bene ad attaccare stiamo comunque costringendo Evenepul a venirci sotto gli stiamo facendo fare tanta fatica e adesso sulla nostra ruota resta soltanto Romain Bardet ok andiamo andiamo prendiamo il gel rosso con Roglic che attacca ma viene inseguito da Evenepul dovrebbe essere anche Tadei Pogaccia ora si mentre occhio che è rimasto staccato Vingegaard forse chissà forse è rimasto staccato Jonas Vingegaard comunque bravo Roglic che attacca su un terreno in una tappa sulla carta non adattissima alle sue caratteristiche sta costringendo i suoi avversari diretti di classifica ad inseguire da Ieroglic da Ieprimoz quello davanti non ditemi che è Van Aert si stiamo andando addirittura a riprendere Van Aert questo chi è Peio Bilbao si è Peio e andiamo andiamo tutto da qui al traguardo con Pogaccia che però ci sta tornando sotto Pogaccia ha fatto un po' il gioco di Evenepul prendiamo Van Aert ragazzi in una tappa non adatta alle caratteristiche di Roglic facciamo una gran tappa purtroppo non stacchiamo Evenepul forse abbiamo staccato Wingard però eh si si no non è realistico Roglic che attacca non si può vedere comunque Fabio si è ovvio che NBA ha una portata maggiore non sto dicendo di fare un gioco con gli stessi investimenti di NBA ma copiare qualcosa di simile qualcosa di simile con un budget minore si potrebbe fare è ovvio che non puoi fare non puoi spendere quanto NBA cioè a volte a volte copiando escono i giochi belli ad esempio Metal Gear le boss fight non le ha copiate da Monster Hunter cioè Metal Gear ha spesso scopiazzato un qua e là non c'è niente di male non c'è niente di male nel copiare e bene pull resta maglia gialla purtroppo Roglic comunque all'attacco anche se non realistico eh mannaggia niente non abbiamo guadagnato niente però abbiamo guadagnato tanto su Wingard abbiamo guadagnato 24 secondi su Wingard che scende a 1.30 va bene abbiamo sprecato forse anche un po' di energie peccato adesso le simuliamo bisogna trovarli tappa del vento che facciamo la simulare sì se no è tardi dobbiamo simularle per forza di cose è troppo tardi eh si fan pagare bene però siamo pur sempre nel 2024 Tour de France anche lo stesso Tour de France che vuole crescere deve capire cosa vuol fare da grande se restare sempre con questo gioco come titolo ufficiale o magari pensare di far qualcosa di meglio ora non è successo nulla in questa tappa meno male c'era tanto vento classifica generale che resta invariata guardate Van Aert è quinto simuliamo oramai simuliamo tutto e vediamo come va a finire questo Tour de France comunque avevo letto che si potevano fare anche le live condivise però sinceramente non ho la più pallida idea di come funzionino queste live condivise tra streamer avevo sentito anche questo ok è arrivata una fuga è arrivata una fuga ha vinto Dylan Teuns e gli altri uomini di classifica tutti con lo stesso tempo il primo degli uomini di classifica è Pogaciar ma siamo tutti con lo stesso tempo dopo Wingard Roglic è arrivato un po' più indietro per fortuna con lo stesso tempo non è un buon segno però classifica generale invariata avendo tre corridori in top ten intanto questo in testa in testa la classifica della combattività la Borasgro è in testa della classifica squadra classifica scalatori Vlasov a 25 ma vabbè altra tappa Red Bull è una bella cosa per il mondo del ciclismo ma una bella cosa davvero questa tappa per velocisti una bella cosa per il mondo del ciclismo anche Decathlon Decathlon pure sono sponsor importanti ed hai visto come ti è cambiata da così a così la Jedoser che era una squadra in crisi da quando è arrivata Decathlon la squadra va forte e ho detto Decathlon ragazzi e vince Sam Bennett proprio del team Decathlon a Jedoser davanti al nostro Danny Van Poppel che sta disputando un ottimo Tour de France sia da gregario ma anche da velocista e infatti nella classifica appunto il nostro Van Poppel è in top 10 e nono bravo bravo Danny bravo si certo certo entran capitali entran più sponsor pure e comunque sul discorso che facevo prima del mondo del ciclismo in crescita in tutto il mondo in Europa tolta l'Italia questo spiega anche perché entra Red Bull altrimenti Red Bull non sarebbe entrata perché ci sono questi atleti che diventano sempre più globali Van Aert Pidcock che va a fare mountain bike ciclocross Pidcock campione olimpico di mountain bike e chissà se la Bora Red Bull il prossimo anno prenderà proprio Pidcock e Van Aert probabile eh probabile eh le Van Riesel fanno la differenza eh però intanto stanno vincendo Decathlon sponsor francese per squadra francese gran figata in Italia niente io ho pensato no che sarebbe figo se l'Eni visto che si fa tanto Eni Plenitude con la cosa green la cosa verde e fai una squadra di ciclismo più green del ciclismo ok altra tappa per velocisti classifica generale sempre invariata noto che ci sono tante tappe per velocisti quindi parte forte il turma mettere delle frazioni per le ruote veloci ok tappa tosta tappa tosta e qui la classifica generale si allungherà certamente vediamo cosa fa Roglic anche Venepul dovrebbero crollare teoricamente sotto i colpi di Tadej Pogacar e Jonas Wingergaard che sono superiori si c'è il problema della tassazione però si potrebbe fare quel discorso di sede legale un po' come fa la la Ferrari adesso la sta spostando in Orlando al letto cioè si potrebbe trovare qualcosa allora Pogacar vince la tappa davanti a Wingergaard e Bardet Bardet che è rinato qui in questo Tour de France aveva la condizione super Pogacar ha vinto nonostante la condizione così e così e il nostro Roglic fa peggio di Venepul con la condizione cattiva stesso tempo di Hindley male male ragazzi male male perché scendiamo in terza posizione braccati anche da Wingergaard e Venepul tiene duro tiene duro Renko Venepul ora c'è quest'altra tappa con l'arrivo a plateau de Bale prima del giorno di riposo eh sì ma però quelle tappe vallonate lì poi spesso al Tour poi arriva in involata alla fine la Francia è tutta un po' vallonata non esistono proprio i piattoni totale occhio che c'è la risposta di Roglic dopo la prima tappa deludente Roglic ha la condizione super vince a plateau de Bale davanti a Pogacar 15 secondi Wingergaard e Venepul crolla perché si becca 2 minuti e 15 quindi forse Roglic si riprende la maglia gialla bravi Hindley e Vlasov bravi ah è un disastro finiscono fuori tempo massimo Gazzoli Welten Jakobsen Rickert Gronewengen Gis Hepburn McClay Ekhoff Drizners Capiò per il rotto della cuffia resta dentro con 54 minuti di ritardo mamma mia 9 corridori fuori tempo massimo grande Roglic che si riprende la maglia gialla secondo Pogacar terzo Wingergaard e Venepul scende in quarta quinto ancora Van Aert Van Aert assurdo sesto Carlos Rodriguez che ci sta settimo Bardet che non ci sta ottavo Hindley che ci sta Bilbao nono ci sta Vlasov decimo ci sta poi undicesimo Carapazzi Almeida Adam Yates Geraint Thomas quindicesimo Jorgensen ma di stacchi assurdi 26 minuti sedicesima frazione con arriva Nims tappa per velocisti c'è vento ma la simuliamo sarebbe un peccato perdere il tour in una tappa con i ventagli però può esserci questa possibilità comunque ho fatto la prova che chi mi seguiva se premevi il tasto segui usciva la cosa iniziata a seguirti con ballan partito ballan non so se però funziona quindi mi servirebbe qualcuno che non mi segue per vedere se funziona o magari Andrew tu che mi segui fai che non mi segui più e poi mi risegui per vedere se se te lo fa teoricamente ho provato a fare questa cosa che se cliccavi il tasto segui usciva scritto ti segui poi ballan partito ballan però c'è Phil Bauhaus per fortuna il vento non fa danni ok classifica che resta invariata 14 secondi su Pogacero un minuto su Jonas Wingard va bene no non va allora lo devo sistemare perché io la faccio da UBS grazie davvero questa è una tappa la vedo proprio tappa da fughe non penso che sia una tappa per uomini di classifica ma ragazzi ma quest'anno il tour non finisce con la classica tappa degli Champelisei finisce a Nizza è vero finisce a Nizza con la crono attenzione novità al tour de france novità io pensavo che l'arrivo agli Champelisei non potesse mai cambiare per cioè proprio per tradizione wow mi piace l'arrivo a Parigi è figo è caratteristico però tutti gli anni sempre la stessa cosa è un po' stancato arrivare ogni tanto con una crono finale come capita spesso al Giro d'Italia è abbastanza è abbastanza figo attenzione non arriva la fuga perché tirano vince Van Der Poel quindi una volata con un gruppo ristretto a vedere qui sì 35 corridori chiude il gruppetto Godou che è riuscito a restare attaccato con lo sputo evidentemente vince Van Der Poel il secondo Pejo Bilbao che è un corridore molto veloce Pejo Bilbao nonostante sia uno scalatore terzo TG Beno per fortuna Pogaccia al quarto non prende a buoni quinto il nostro Primoz Roglic vediamo che è rimasto staccato di classifica penso nessuno di importante i nostri tre capitani sono lì classifica generale resta invariata e quindi Roglic arriva alla diciannovesima tappa con ancora la maglia gialla ma guardate che classifica corta è Van Aert quinto vabbè la crona la giochiamo magari se sei in lotta però ho paura che qua la tappa d'isola 2000 si becca la scoppola il nostro Primoz si superano in tre occasioni 2000 metri ho paura a fare tappa veloce ragazzi ho paura ho molta paura vediamo oh mamma mia che scoppola che si becca Primoz che scoppola che si becca qua Pogaccia e Revingard mettono la freccia e se ne vanno oh mamma che scoppola che si becca ecco vedo già la maglia della UE però sono arrivati tutti con lo stesso tempo vince la volata ristretta Roglic terzo Vingegaard bravo e bene Garen Thomas Garen Thomas che sale di condizione cresce di condizione nel finale l'esperienza del vecchio mister G Carapaz fa fatica con Rodriguez Kjatkowski Bardet vabbè che compagnia è male Hindley e Vlasov Hindley e Vlasov molto male e secondo me scendono di parecchio in classifica Hindley resta ottavo ma 10 minuti Van Aert perde due posizioni ma ci sta è già assurdo vederlo lì e Vlasov esce di top 10 odio Haller è vero l'ho visto adesso Haller fuori ma parecchi sono finiti fuori in tempo massimo sono rimasti 163 ne partivano 176 o 178 e Haller ha beccato proprio la condizione no nella tappa più dura quella con di Isola 2000 ha passato una brutta giornata Haller Reinders del Milan che si è reinventato ciclista col team Geko è ultimo quindi evidentemente non fa per lui ragazzi ma Roglic arriva alla penultima tappa in maglia gialla io a sto punto me le gioco aspetta vediamo che dite ragazzi se mi seguite anche se è tardi me le gioco si è fatta una certa scrivetemi in chat che faccio me la gioco sta inizia col coi lol siamo arrivati alla penultima tappa in maglia gialla con 10 secondi su Pogacar no simula che in simulazione va forte e gioca la Crono in effetti in simulazione Roglic per il momento sta tenendo e si è vero perché se giochiamo davvero al difficoltà leggenda Roglic che c'è un overhaul di 81 le buschiamo da Pogacar secondo me giochiamo la Crono sono indeciso pure io vabbè se no ragazzi sapete che faccio o faccio indietro no no aspetta i progressi andranno persi oddio no simuliamo dai simuliamo sì altrimenti si fa tardi se giochiamo questa no si fa troppo tardi si fa troppo tardi facciamo tappa veloce no si fa troppo perché poi questa tappa dobbiamo giocarla seriamente l'ultima salita ci perdiamo 20 minuti si fa mezzanotte attenzione eh lo sapevo lo sapevo che scoppola che abbiamo preso ragazzi che scoppola ma ci sta ci sta quindi come come al Tour de France del 2020 alla penultima tappa perché in quel caso anche quella era la tappa 20 non era l'ultima quella cronometro poi c'è la tappa degli Champs-Élysées Roglic perde il Tour de France di nuovo lo perde di nuovo ragazzi eh Roglic un Tour maledetto per primo Spogaciar e prende la maglia gialla Wingard secondo Roglic potrebbe ancora aggredire la seconda posizione di Wingard il podio dovrebbe essere sicuro bravo Indle il sesto Vlasov bravo decimo con Jungels che si è anche ammalato ci mancava anche questa Reinders ritiene duro e a sto punto ci giochiamo la crono finale città fighissima ragazzi bellissima 36 km crono tosta crono tosta crono tosta ce la giochiamo per vedere poi le immagini del podio una cosa che mi dà fastidio è che non mettono il podio con i primi tre che è una cosa che c'è nella realtà e diamine fare il podio con i primi tre non farmi vedere solo chi vince il tour e le altre maglie favoriti Pogacar Roglic e 6 movie 8 quindi una crono una crono per scalatori non per cronomen puri però abbiamo Roglic che non sta anzi almeno non sta male come Indle e Vlasov almeno partiamo partiamo più soft dai abbiamo perso tutto su quello strappo lì comunque bella crono questa è tosta soprattutto difficoltà leggenda da gestire è difficilissima abbiamo fatto forte la salita ma poi comunque gli intertempi degli altri erano superiori ai nostri quindi un Roglic che ha una condizione così e così evidentemente gli altri hanno delle condizioni superiori alla nostra va bene qui dai primo almeno il podio tienilo sinistra destra andiamo su con un passo più tranquillo intanto leggo commenta dall'anno scorso che le crono sono diventate difficili non so se ti ricordi ma tipo sul 22 erano facilità è vero è vero ma meglio così meglio così giusto così poi specie una crono con un percorso del genere ci sta che sia difficile da gestire devi capire bene dove spingere dove non spingere intanto Primoz tiene duro peccato era arrivato alla penultima tappa con la maglia gialla ma poi è stato sonoramente sconfitto da Jonas Wing Gardetta dei Pogacar ma magari ci riproveremo ci riproveremo giocandolo integralmente senza simularlo con la Bora Red Bull quando verrà fuori andiamo e Primoz ma voi sentite un po' il pubblico il direttore sportivo che parla perché magari alzo un pochettino cioè sentite il vento il direttore sportivo che dice a Rogliccio sentite solo me minchia che Red Thomas va forte ah si sente bene dai meno male spingiamo un po' qui rilanciamo destra ragazzi questa è una crono decisiva potrebbe essere decisiva qui si fa la differenza in una crono del genere specie all'ultima tappa dove si arriva cioè se si arriva con la classifica corta qua anche un minuto non stai tranquillo becchi la giornata storta se becchi la giornata storta qua perdi il Tour de France bene Rogliccio qui dai primos dai che siamo vicini allo scolinamento stavolta dovremmo scolinare con molte più energie rispetto a prima teoricamente dai il pubblico lo applaude sto cretino non si sposta si sposta all'ultimo dai li lancio un pochino primos ci siamo forse un pochettino di energie in più dovremmo averle rispetto a prima magari non spingiamo a tutto adesso in quel tratto in discesa ma cerchiamo di recuperare un po' di energie però guardate come la prestazione di venepul sia nettamente superiore alla nostra quindi evidentemente gli altri hanno una buona condizione mentre il nostro primos non va quindi c'è poco da fare c'è molto poco da fare male 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 ragazzi male 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 prova a recuperare un pochino qui non spingo a fondo non spingo a fondo ma primos non sta tanto bene andiamo è importante recuperare più che la posizione aerodinamica recuperiamo un po' di energie anche a scapito di perdere tempo curva a destra curva a sinistra altra curva a destra e andiamo questa volta abbiamo molte più energie rispetto a prima per fare sto strappo dietro non vediamo ancora Jonas Wingergaard quindi è buono bene all'intertempo non siamo neanche malissimi noi siamo noni il problema sono gli altri che vanno più forti oddio arriva dietro Jonas Wingergaard con grande velocità però ne abbiamo per ricacciarlo indietro su sto strappo ne abbiamo molto di più rispetto a prima bravo primoz ciao mister james ciao siamo arrivati all'ultima tappa con roglish terzo ci stiamo giocando la crono finale roglish è stato in maglia gialla abbiamo simulato tutto sto tour de france è stato in maglia gialla praticamente fino alla penultima tappa l'ha perso la maglia gialla la penultima tappa come al tour de france del 2020 adesso in questa crono stiamo difendendo il podio dall'assalto di remque veneple ma il tour l'ha vinto molto probabilmente tra dei pocaciar con roglish ci siamo andati vicini quindi ho fatto un bel tour de france ora curva sinistra e qua abbiamo frenato troppo secondo me a destra cerchiamo di recuperare sinistra bene qua sinistra qua spingiamo occhia sta curva che qua bisogna frenare ragazzi bene di sponda l'abbiamo fatta di sponda proviamo a recuperare un pochettino roglish che in dicesa è parecchio scarso nel gioco e si sente pal dalla mano si sente parecchio abbiamo sbagliato anche sta curva meglio questa sbagliata anche questa e andiamo andiamo all'intertempo settimi comunque non stiamo andando malissimo non stiamo andando malissimo qui stiamo sbagliando le curve sono anche un po' stane così è fatta una certa ragazzi sinistra ok adesso andiamo a tutta da qui alla fine vediamo se riusciamo vingard l'abbiamo ributtato indietro comunque quindi non è male sta curva finalmente abbiamo fatto una curva decente finalmente anche questa devo dire non male occhio qui abbiamo stretto troppo prima ma l'abbiamo poi rimediata bene e andiamo andiamo sei chilometri di pianura siamo settimi al secondo intertempo si è vero molto carina da giocare l'ultima crono difficile soprattutto da interpretare difficile hai ragione secondo me la posizione aerodinamica è un bug aspetta non so se ti ricordi la crono scalata dell'anno scorso di 3 km che quando rilanciavi non si alzava sui pedali a volte capitava è vero ma comunque la velocità aumentava lo stesso ci sta che magari su pendenze il corridore faccia fatica ad alzarsi andiamo a tutta da qui alla fine per 4 km ma stiamo riprendendo un corridore davanti ma non è venepul non penso sia remco difficile che roglic possa prendere venepul e infatti e infatti è bardè che era settimo partiva forse 9 minuti partiva 5-6 minuti prima di noi l'abbia ripreso bardè praticamente va con la retromarcia a crono con la retromarcia va a cronometro ci siamo stiamo per chiudere questo tour de france con primo loz roglic che dovrebbe difendere il podio dagli assalti di remco e venepul arriviamo comunque un po' sopra al tempo che c'era stato assegnato dal direttore sportivo ma abbiamo dato tutto siamo arrivati al traguardo con lo schermo grigio quindi abbiamo dato tutto in questa cronometro senza riempianti passato a tripla velocità roman bardè mamma mia si dai roglic terzo alla fine difficoltà leggenda è quello il risultato tra l'altro pogaciar vince anche la crono finale quindi pogaciar vince il tour la classifica appunti la vince jasper philipson ci sta ci sta che jasper philipson vinca la classifica punti assolutamente il podio a nizza non è più non è più a parigi quindi non c'è più l'arco di trionfo alle spalle del podio pogaciar che vince anche la maglia po' ci sta anche questo è già successo nella realtà e la classifica giovani la vince ramco e venepo ok adesso abbiamo sbloccato l'obiettivo vince la classifica squadra al tour de france facciamo sesti nella crono finale abbiamo rischiato addirittura di perdere il podio lo teniamo per un minuto e mezzo quindi abbiamo simulato il tour de france nella simulazione su tour de france 2024 termina così vince da di pogaciar con 2 minuti e 33 su primo zroglic e su jonas ving guarde chiedo scusa terzo roglic a 3 e 36 quarto evenepoel a 5 minuti quinto van aert a 15 minuti di stacchi assurdi van aert quinto sesto bardè settimo carlos rodriguez ottavo jai hindley nono bilbao decimo almeida undicesimo alexander vlaso quindi podio con roglic difficoltà leggenda classifica scalatori la vince pogaciar che beffe il povero carapaz non gli lascia neanche questa cosa che era successa al tour de france del 2020 tra l'altro classifica punti la vince jasper philipsen la stravince con 200 e passa punti di vantaggio proprio su pogaciar classifica johnny e venepoel la stravince con 12 minuti di vantaggio su rodriguez 40 su jorgensen 50 su iuso ma secondo me nella realtà questa classifica sarà molto più combattuta e venepoel non avrà vita facile con rodriguez jorgensen secondo me non avrà vita facile classifica squadre la vinciamo con la boras groen almeno abbiamo vinto qualcosa podio e vittoria della classifica squadre abbiamo battuto la uae non era scontato perché la uae aveva forse una squadra anche più forte della nostra perché oltre a pogaciar aveva aiuso almeida e adam yates noi avevamo hindley e vlasov quindi è un buono risultato terza la visma la classifica della combattività la vince pascher andiamo al riepilogo prima di chiudere infatti evenepoel non sarà facile per lui vincere la maglia bianca nella realtà questo è il riepilogo con roglitch che vince la prima tappa la seconda tappa la cesenatico bologna mother pool acceleriamo poi philipsen abbiamo tenuto la maglia gialla fino alla tappa 6 poi la tappa 7 c'è stata la cronometro e la presa evenepul che l'ha tenuta per ben vediamo fino alla tappa 14 no fino alla tappa si 14 dove ha vinto pogaciar poi alla 15 ha vinto roglitch che si è ripreso la maglia gialla e l'ha strappata proprio a remco roglitch che l'ha tenuta fino alla tappa 19 è iniziato la tappa 20 la penultima tappa con la maglia gialla lì pogaciar ha vinto la tappa decisiva e poi stravinto anche la cronometro pogaciar dunque ha vinto il tour nelle ultime due tappe più o meno come al tour de france del 2020 povero roglitch ragazzi povero povero primos roglitch qua scorrono i titoli di coda questo tra l'altro è stato il primo tour de france che ho giocato su tour de france 2024 non l'ho giocato completamente perché abbiamo fatto la tappa 1 la tappa 3 la tappa 1 la tappa 2 la 4 la 9 e la cronofinale quindi in realtà abbiamo giocato solo 5 tappe però l'abbiamo devo dire i risultati sono abbastanza realistici forse è Venepul e forse non è tanto realistico e c'è troppo distacco rispetto ai primi 4 cioè tolti i primi 4 poi ci sono dei distacchi che si contano con con il calendario gli altri praticamente i distacchi hanno le chlessidre per contare i distacchi esagerato forse esagerato questa live termina qui si è fatta anche tardi vi ringrazio vi ringrazio per avermi seguito spero vi siate divertiti io vi saluto e vi do appuntamento vi do appuntamento sempre qui sul canale del ciclista anonimo su tutti i miei canali mi trovate su instagram su youtube su facebook per contenuti come sempre dedicati al mondo del ciclismo ciao ragazzi ciao ciao ciao